La cosa buona che io vedo oggi è che in un mondo come quello attuale, Europa e non soltanto Europa, in cui c'è tutto che è in cambiamento, dove ci sono, adesso oggi avremo le elezioni inglesi e si preannuncia forse un cambio, piuttosto che invece si è visto in Francia cosa è successo e vediamo che succederà, in Germania stessa, la stessa Spagna, diciamo che noi oggi abbiamo un valore che è la stabilità, che è certamente un valore che è importante e quindi la stabilità secondo me può consentire a Giorgia Meloni e al governo di fare magari anche quelle cose utili al paese per intraprendere una via di crescita, facendo dei programmi anche veramente di lungo periodo, c'è un tema per esempio legato alla natalità che è un tema molto importante, dove oggi purtroppo in Italia abbiamo un calo delle nascite, quindi poi un calo della popolazione molto significativo che ovviamente va curato, ma sono quelle cose che quando tu ti metti a curarle i risultati li ottieni dopo molti anni, però certamente è una cosa che va pensata e tante altre cose, il fatto di dare una possibilità a chi vuole intraprendere, a chi vuole investire di farlo avendo anche agevolazioni, agevolazioni se gli investimenti vengono fatti magari al sud, in certi settori e quant'altro, quindi oggi secondo me la stabilità per noi è un grande valore in sé, ma è un grande valore per quello che si potrà fare anche di lungo periodo, di medio e lungo periodo, quindi io credo che sia bene che il governo vada avanti e vada avanti facendo queste cose.